Lo scorso video abbiamo visto perché ho riscretto il mio file manager in Rust. Visto che mi è stato chiesto, oggi vediamo come ho fatto, nel senso di quali create utilizzo e come ho strutturato il programma. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Iniziamo col dire che la libreria standard di Python è invidiabile. E' possibile scrivere programmi in Python senza o con pochissime dipendenze esterne. Ecco, Rust è l'esatto opposto. Ha una libreria standard minimale e si aspetta che se ti serve qualcosa te lo vai a prendere da creates.io. Questa cosa devo dire che non mi piace molto, perché io sono dell'idea che un software deve avere il minore numero di dipendenze possibile. Fatto sta che se Arenar aveva solo 5 dipendenze esterne, Francomand era ben 34 dipendenze esterne. Vediamo le dipendenze principali a cosa servono. Termion e Ratatui servono a creare l'interfaccia cosiddette TUI, Text User Interface, cioè interfaccia utente testuali. Due cose da notare qui. Prima di tutto, se vai a sfogliare tra i widget di Ratatui, noterai sicuramente l'assenza di widget che direi sia esterno indispensabili, tipo bottoni, checkbox, campi di testo editabili e via dicendo. Cos'hanno in comune tutti i widget che ho appena elencato? Esatto, tutti questi widget reagiscono ad un input da parte dell'utente. Ratatui invece si occupa solamente di ciò che viene mostrato su Terminale, lasciando tutta la gestione degli input al programmatore dell'applicazione, facendogli utilizzare direttamente la libreria scelta per parlare col Terminale. La seconda cosa da notare è Ratatui di default utilizza CrossTerm per parlare col Terminale, mentre io ho scelto Termion. Perché? Un altro obiettivo che mi sono posto, oltre che avere il minore numero di dipendenze possibili, è quello di avere un eseguibile ragionevolmente piccolo di dimensioni. E visto che Termion è più leggero di CrossTerm, ecco che la mia scelta è caduta su di lui. Col seno di poi, forse questa scelta è stata un errore. Perché ho notato comportamenti strani quando vado ad eseguire programmi esterni, ma non so se Passara CrossTerm possa risolvere il problema oppure no. Quindi alla fine sono rimasto su Terminale intendendomi questi bug noti. Continuando con le dipendenze. Syntect e BAT servono per la sintassi colorata del visualizzatore di file. Nota che BAT è lo stesso BAT che forse conosci come comando alternativo a CUT. Il bello di Rust è che è vero che hai bisogno di numerose dipendenze esterne, ma a differenza dello scempio che c'è su NPM nell'ecosistema JavaScript, i create di Rust sono tendenzialmente di ottima qualità, e le utili italiane di comando come BAT per esempio, possono essere usate anche come le libererie all'interno di altri programmi. Prossima dipendenza degna di nota, Users, che serve per mappare UserID e GroupID numerici a nomi di utenti e gruppi, ed è la stessa libreria utilizzata dal comando EZA, che forse conosce come comando alternativo ad LS. Altra dipendenza degna di nota è NucleoMatcher, che sta alla base dei filtri della ricerca Fuzzy che soffranno in comando rusi con la lettera F oppure CTRL-P. Questa è la stessa libreria utilizzata per la ricerca Fuzzy nell'editore di testo Helix. Penultima dipendenza degna di nota è Raskulite, che come puoi intuire dal nome, sono dei binding in Rust per il database SQLite. Nota come utilizzo features uguale bundled per non utilizzare la versione di SQLite installata sul sistema, ma di integrare una copia di SQLite direttamente dentro l'eseguibile. Questo mi permette di far funzionare Fran Commander anche su sistemi dove non hai installato SQLite. Se ti stai domandando che cavoli se ne fa di un file manager di un database, bene, questa è l'arma segreta di Fran Commander per continuare operazioni di copia, spostamento e cancellazione file nel caso vada via la 40 metà operazione. Ultima dipendenza degna di nota è Rustix, che sono dei binding Rust per chiamate di sistema a basso livello, e viene usata da Fran Commander per operazioni su file, tipo copia, cambio di permessi e data, e anche per mostrare quanto spazio sul disco c'è disponibile. Bene, passiamo ora al codice. Come detto poc'anzi, la libreria standard di Python è invidiabile, e un'altra cosa bella della libreria standard di Python è CopenSource. Bene, i file fnmatch, shutile, stat e template contengono alcune funzioni della libreria standard di Python tradotte in Rust. Poi, parliamo ora di architettura. Visto che Ratatouille non impone una struttura al tuo progetto, ho scelto di implementare un'architettura componenti, dove ogni singola cosa che vedi sullo schermo è un componente, che a sua volta può avere altri componenti. Per esempio, i due pannelli sono due componenti. La finestra di dialogo è un componente che a sua volta contiene altri componenti, come una casella di testo, checkbox, thread button, pulsanti, insomma hai capito il concetto. Ogni componente deve implementare solamente quattro funzioni. Handle key, che dice come comportarsi quando viene premuto un tasto. Handle mouse, che dice come comportarsi quando viene usato il mouse. Handle pub sub, che dice come comportarsi quando succede un qualsiasi altro evento che non è né tastiera né mouse. Per esempio, quando sposti il cursore da un file all'altro, il pannello di elenco dei file emette un evento per dire che ci si è spostati su un altro file. Il pannello di quick view a sua volta riceve l'evento di spostamento su un altro file, e di conseguenza mostra il contenuto dei file su cui ci si è appena spostati. Infine, la funzione render si occupa di disegnare il componente sul terminale. Nella directory widgets ci sono i widget di base come bottoni, checkbox, input, radio box. Il file app.rs contiene funzioni comuni a tutto il progetto, e come visto poc'anzi, definisce l'enum pub sub, che definisce tutti gli eventi utilizzati dall'applicazione. Passiamo al file main.rs, che come dice il nome stesso, è il module principale e si occupa dell'inizializzazione e del main loop. La prima cosa da notare è che, grazie all'utilizzo di clap, per gestire gli argomenti passati da linea di comando, basta dichiarare una struttura, annotare gli elementi della struttura con un commento e la direttiva arg, e poi clap si occupa di tutto il resto, compreso generare in automatico una bella schermata di help quando passi l'opzione meno meno help. Poi vediamo che, in realtà, Fran Commander sono due app in uno, e sia un file manager che un visualizzatore di file, a seconda se gli passi l'opzione meno meno view da linea di comando. Se usavi arenar, ti ricorderai che il comando arenar avviava il file manager, mentre il comando arenar view avviava il visualizzatore di file. Con Fran Commander ho preferito unire le due applicazioni in un unico eseguibile per avere maggiore portabilità. Sempre nella main c'è, per l'appunto, il main loop, che si occupa semplicemente di disegnare l'applicazione sul terminale e delegare all'applicazione la gestione degli eventi. Ora, non sto a mostrarti tutto il resto del progetto perché altrimenti questo video durerebbe ore, ma ti mostro comunque qualche particolarità di cui vado fiero, e che se riguarderò il video tra qualche anno mi vergognerò di sicuro. Vediamo l'ArchiveMounter, che come dice il nome stesso, si occupa di montare e smontare gli archivi compressi all'occorrenza utilizzando ArchiveFS. Ora, se tu dovessi fare un ArchiveMounter che viene utilizzato in diverse parti dell'applicazione, anche su thread separati, immagino usaresti un ArcMutex, e non ci starebbe nulla di male in questa soluzione. Visto che il mio modo di ragionare è stato condaggiato da Elixir, ho scelto un metodo che è alquanto inusuale per un programmatore RAST, ma ovvio per un programmatore Elixir. Cioè, l'ArchiveMounter sta su un thread tutto suo, ed è in loop ad accettare comandi che gli vengono passati attraverso un canale. Per interagire con l'ArchiveMounter non fa nient'altro che mandare un messaggio al thread dell'ArchiveMounter, passandogli un canale per ricevere il valore di risposta, ed aspettare la risposta dal canale passato gli. Su Elixir questo comportamento si chiama GenServer, ed è uno dei blocchi fondamentali di un'applicazione TP, ma sto dibagando. Passiamo ora al database. Smettiamola con sta storia che per interfacciarsi con un database hai bisogno di un ORM. SQL non è un linguaggio difficile, ed interfacciarsi direttamente con SQLite è piuttosto semplice. Oppure si potrebbe dire che mi sono costruito un ORM ad hoc, specifico per queste applicazioni, e vedi funzioni come per esempio SetJobStatus e GetFileList che vengono utilizzate dal resto dell'applicazione. Il mio discorso era per dire che non hai bisogno di astrazioni tipo diesel o CORM che aggiungono solo complessità inutilmente. Infine, volevo mostrarti un paio di ottimizzazioni rispetto ad RENAR. Cominciamo dall'elenco dei file. Tutti i file di una directory vengono scanditi in un thread separato. Una volta scanditi tutti i file, il risultato viene passato al thread principale. Ma non è finita qui. A questo punto, il thread di scansione dei file va a contare quanti elementi ci sono in ogni directory, e poi del risultato al thread principale. In RENAR, queste due operazioni avvenivano nel thread principale, e se una directory conteneva diverse sotto-directory, potevano passare diversi secondi prima di poter continuare ad interagire con l'applicazione. Dividendo quest'operazione in due, ho ottenuto il risultato che la navigazione all'interno delle directory è decisamente più veloce, al prezzo che per un certo periodo non so quanti elementi ci sono nelle varie directory. Discorso molto simile per il visualizzatore di testo. Visualizzo immediatamente il testo senza sintassi colorata. Poi, in un thread separato, vado a colorare la sintassi con calma. In RENAR, facevo tutto nel thread principale, e questo aveva come risultato che per certi file ci volevano diversi secondi prima che venissero visualizzati. Colorando la sintassi in un thread separato, ottengo il risultato che il file viene visualizzato immediatamente, e dopo qualche secondo, nella peggiore dell'ipotesi, vedi la sintassi colorata. A quanto ne so, questo è lo stesso comportamento di via sc***a. Come dicevo, se dovessi mostrarti tutto il progetto, questo video durerebbe ore, quindi mi fermo qui. Spero che questo video sia servito quantomeno a darti qualche spunto interessante. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Ecco, rastelop e... Bello. Handle key, che dice come comportarsi quando viene... Mentre mi raccomando armare view... Colorando la sintassi in un thread separato, ottengo il risultato che il file viene... Bello. Bello. Oggi sono veramente in forma. Alla prossimo video.